ciao ragazzi bentrovati e bentornati sul mio canale allora per chi non mi conosce io sono Emanuele e recensisco libri film serie tv quello che capita anche prodotti infatti oggi sono qui per parlare di alcuni prodotti che mi hanno chiesto di provare partiamo che sono tutti prodotti per uso animale tranne uno che è per uso orale umano e partiamo da questo ok che cos'è no lo sappiamo cos'è è carbone attivo tanti di voi ne avranno sicuramente sentito parlare qualcuno forse lo usa anche e non so se lo usano nel modo giusto io lo uso in questo modo lo apro no mi inebrio del profumo al mentolo che c'è qui dentro ci metto un dito e vado in giro a fare rambo no non è vero allora aspettate che ho fatto una minchiata ah vabbè adesso faccio la recensione così dai chi se ne frega allora carbone attivo prodotto unis proactive wiping aiuta a mantenere i vostri denti bianchi come potete vedere io diciamo l'ho provato per un po non è che avresti i denti marroni e fortunatamente però certo porca vacca se non ve lo mettete addosso perché inseriva più comunque niente mi hanno mandato un messaggio mi chiesto che ne pensi vuoi provare un prodotto che ti può aiutare ad avere un buon bel sorriso e un alito fresco fatto il chiesa perché puzza il fiato no però se lo vuoi provato e io ho detto va beh proviamolo come funziona allora è molto semplice va applicato sui denti con lo spazzolino il classico spazzolino loro consigliano uno spazzolino al bambù composto di bambù non bambù però fatto di bambù e puoi fare una pastina con dell'acqua metti un goccino di acqua un po di polverina fai una pastina e te la passi sui denti e la lasci agire per circa 12 minuti ragazzi ve lo dico non è facile stare che 12 minuti che sbavi come una lama però ci si può si può fare e la sensazione di pulito che vi lascia in bocca è spettacolare i denti si sbiancano non immediatamente ci vuole una costanza di almeno due volte a settimana all'inizio due tre volte a settimana per un paio di settimane e già inizierete a vedere i primi risultati ma la pulizia cioè voi sentirete proprio in bocca un la stessa sensazione che vi sarà capitato sicuramente dopo aver fatto l'igienizzazione dentale dal dentista quindi una cura professionale però a casa vale la pena provarlo ve lo consiglio nel link cioè metterò il link in descrizione nel nel video e prendetelo costa una stupidaggine costa mi sembra intorno ai 15 euro più o meno 14 euro e 99 è un prodotto venduto da slick sal slick sale e però venduto da amazon ve lo propongo perché comunque a comprare questa roba su internet un po no dice chissà che c'è sta dentro io l'ho provato i denti ci stanno ancora sono i miei quindi vale la pena provarlo e 14 euro e 99 fate un tentativo per due settimane e poi fatemi sapere cosa ne pensate il prodotto come ho detto si chiama unis o annis non lo so come volete voi non si legge aspetta eh vediamo active active whitening 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 comunque questo è il prodotto fatemi sapere cosa ne pensate e scrivetelo qui sotto nei commenti se volete poi non è finita qui perché non contenti mi hanno detto perché tu hai degli animali no tu hai dei cani fa sì simpatici una soppa è un povero esaurito e ok perfetto da ti vogliamo proporre dei prodotti per loro i primi prodotti che ti consigliamo sono questi che roba è sono dei collari anti abbaglio ora fermi tutti io sono contrario ai collari anti abbaglio soprattutto se fanno del male al cane con scosse elettriche e quant'altro quindi partiamo da questo presupposto questi invece non fanno questa cosa qui non usano scosse elettriche ma vibrazioni e suoni cioè vi spiego il cane abbaglia il collare emette il suono ora io ve lo apro e ve lo mostro nella confezione trovate due batterie e il collare ecco qui le due batterie le istruzioni che sono in aramaico antico però insomma non ci vuole insomma una laurea per capire come funziona lo andiamo ad aprire e vediamo cosa c'è dentro c'è questo simpatico collarino come vedete qui ci sono dei sensori che captano le vibrazioni del collo dell'animale come si apre si apre aspetta è così sia si toglie la clipettina che c'è qua davanti vedete questo si leva senza romperlo però si leva ecco qua si leva non l'ho rotto e dentro c'è il colvano per mettere la batteria andiamo a mettere la batteria ha fatto il bip quindi vuol dire che è operativo poi una volta che è operativo qui sopra avete il più il meno che vi segna è un led che vi segnala che sta funzionando io adesso lo metto al massimo perfetto è al massimo poi come funziona questo una volta applicato al collo del vostro animale io me lo metto io perché vedete già sta funzionando adesso io devo parlare molto lentamente molto a bassa voce perché se no questo se io alzo la voce incominciate che suona ha vibrato quindi come funziona funziona che se il cane abbaglia ok e e lui se ne accorge vibra e suona sempre più intensamente in questo modo il cane viene dissuaso dal voler abbagliare all'inizio risulta un po disorientante il vostro cane potrebbe non apprezzarlo molto però devo dire per chi ha dei problemi per chi ha dei problemi ok con i vicini perché il vostro cane quando entrate in casa o entra qualcuno in casa fa molto potrebbe essere la soluzione giusta è anche ideale se avete un compagno o una compagna che non è in grado di avere un tono di voce basso glielo mettete al collo così ogni volta che alza la voce questo suona non in questo caso comunque io l'ho provato il rosso perché lui sta percependo no praticamente adesso se io continuassi ad usare una tonalità che fa scattare questo continuerebbe a suonare in maniera molto prolungata con una vibrazione molto intensa dopodiché passati quattro minuti si interromperebbe e ricomincerebbe da capo quindi con un bip molto più leggero e una vibrazione molto più leggera ora che dire l'ho provato con il mio cane si glielo ho lasciato no perché a me non me ne può fregare meno di sapere dei miei vicini se gli da fastidio che il mio cane abbaglia pure a me mi danno fastidio loro però che gli devo fare non posso impedire che mi rubino l'ossigeno quindi detto questo è molto interessante me lo levo perché voglio parlare è molto interessante non nuoce al cane ma veramente insegna no cioè fa sì che il cane interrompa la sua abbagliata e piano piano cominci poi a capire quando è il caso di abbagliare oppure no lo potete provare se volete costa intorno ai 20 euro metterò il link descrizione questo se io dovessi scegliere io non li amo questi prodotti ma se dovessi scegliere fra questo e quello con la scossa ovviamente sotterei per questo non fa male al cane lo aiuta e sinceramente può solo che fare bene a chi magari ha dei problemi gestionali con il cane sappiate che se il cane abbaglia c'è sempre c'è sempre una motivazione quindi che vi posso dire cercate di capire perché abbaglia ok magari parlate con un professionista andate da un comportamentalista per capire per quale motivo il vostro cane abbaglia da questo atteggiamento invece di cercare di sedarlo con questi affari che secondo me fanno più male che bene il prodotto in sé per sé non nuoce al cane però sinceramente sarebbe come mettere la mano sulla bocca a qualcuno che parla in continuazione perché ha bisogno di dirvi qualche cosa quindi detto questo ve lo consiglio se avete problemi ma vi consiglio di più di andare da un professionista ne abbiamo due perché uno non mi bastava e questo è diverso a che si presenta con le stesse funzionalità sempre due batterie e con i pernini che si possono cambiare eccoli qui e però questo in più a che questa è molto carina questa cosa le clipettine davanti colorate quindi potete anche cambiarlo se avete un maschio una femminuccia o se avete più cani insomma neanche in base al grado di baglio di abbaio che hanno l'uno all'altro potete regolarlo con i più e con il meno i miei uccellini stanno distendendo da quello che vi sto dicendo quindi fate finta di niente che dire questo è il collare anti abbaio niente decisionale però se proprio non potete farne a meno almeno scegliete qualcosa che non gli faccia del male ultimo dulcis infindus questo questo mi è piaciuto un sacco questo è un bel prodotto costa leggermente di più però vale la pena è una macchietta per tosare il vostro amico peloso e costa 30 euro su amazon il venditore sempre sleek sale però questo è davvero molto interessante perché all'interno della confezione c'è davvero tutto abbiamo la limetta per le unghie le forbicine per tagliare le unghie al nostro amico peloso vedete eccole qua sono davvero graziose e utili soprattutto perché non sai mai no comunque il segreto per far accorciare le unghie al cane è portarlo a camminare perché le unghie del cane si consumano man mano che cammina ma se il vostro cane magari è un po anziano un po pigro potete aiutare con queste hanno una linguetta che impedisce andare troppo oltre in questo modo non c'è rischio di fare del male tagliando l'innervetto delle unghie del cane dentro abbiamo le forbici due tipi di forbici quella taglio liscio e a taglio frastagliato troviamo il cavetto per attaccarlo alla macchinetta che sarà il vostro amico peloso eccola qui la macchinetta si regola delle regolazioni che possono essere variate in base all'utilizzo che dovete fare in base alla zona che dovete radere ed è a batterie ricaricabili è resistente agli spruzzi non resistente all'acqua quindi se volete fare una dosatura un pesce io eviterei per ricaricarlo è sufficiente metterlo metterglielo dentro non stiamo non è un porno e attaccarlo a un qualsiasi ricarica batterie di un cellulare abbiamo oltremodo il pettine in ferro che va bene anche per noi degli spessimetri non so se si chiamano così comunque degli spessori che variano da un centimetro e mezzo a sei centimetri e così via del olio per la frittura che si applica sopra qui e poi a mangi e una mattina questa credo che ci sia finita dentro nel caso non era non fa parte del kit e basta ah e c'è pure questo per pulirlo e questo è interessante sinceramente questo è un bel prodotto l'ho approvato sulla mia vecchietta e gli ho rasato le chiappette che ragazzi la paura non è stato attimo ovviamente fate attenzione perché se gli fate male volerini però eccezionale un bel prodotto ve lo consiglio sempre su amazon venditore come detto slick sale il prezzo è 29 euro e 99 e che dire ve lo linko sempre qui sotto se l'avete presi se già li conoscete o se state provando fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto io vi ringrazio per il vostro tempo vi saluto e vi mando un abbraccio ciao ragazzi